a attenzione niente sempre ancora non vina avanti a cercare barchesimo è lungo forse ci arriva bergessio ma poi c'è il duello il tiro di bergessio il diagonale di gol siu li siu li incredibile incredibile ragazzi siamo senza parole guangesus ha fatto una follia ma c'era tutta l'inter che mi sembrava già in crisi appena prima di iniziare l'onda moretti 0-2-0 gol poi segna anche un calcio di collezione di lodi quasi da centro campo palla in area colpisce di testa marchese lasciato libero da schelotto ed è gol nell'angolino guardate attenti all'inter palacio palacio trova spazio buon impatto nella partita palacio gol 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 dell'inter alvarez alvarez gol di alvarez gol di alvarez fulini quello che vuole mandare via l'onda 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 per il gol di alvarez vabbè andiamo con l'inter che attacca vabbè vuol dire che amoni e ci divertiremo buoni buoni attenzione un altro traverso gol gol palacio gola oh io voglio il mio ego eh io ho giocato la vittoria hai giocato la vittoria io ho giocato 3-2 bene 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 gol dell'inter palacio di testa l'onda sanghiong dai attenzione all'inter attenzione adesso la perdi adesso dovete perdere dopo questa cosa qua attenzione cambiasso 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 qui c'è il gol 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 del l'inter gol del l'inter gol del l'inter gol del l'inter la vita grazie grazie gol del l'inter l'onda sanghiong siamo a 6